Ciao a tutti, sono Roberto e questo è il canale delle mie scorie rivoli narrativi. Se non sai cos'è, ti invito ad andare a vedere il mio primo video fatto due anni fa, più o meno, dove almeno si riesce a capire il perché di questo canale e quello che vorrei fare. In breve, quello che vorrei fare, ovviamente, è scrivere romanzi, essere uno scrittore, ma più generalmente parlare di narrativa, delle mie passioni, che principalmente sono la scrittura, e portarla su questo canale e quindi seguire questo viaggio insieme a me. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale YouTube, dove a volte, non molto spesso, faccio video, dove mi piace condividere alcuni pensieri. Ho anche un blog, che è lemiescorie.it, dove scrivo articoli sempre relativi alla narrativa. È un po' cambiato nel tempo, adesso andrò a spiegarti il perché di questa cosa. Ho proprio da poco fatto uscire un nuovo articolo su un libro, che ho letto da poco, dove affronto il tema della parapsicologia e della scienza. Il libro in questione era La casa d'inferno di Richard Matheson. Quindi se l'hai letto, o se comunque ti piace il genere in questione, vai a dargli un'occhiata. Allora, oggi volevo parlare di come sto cercando di cambiare mentalità la mia mentalità, per diventare quello che vorrei diventare, quindi appunto uno scrittore. Allora, partiamo dalle basi. Parto dal mio percorso iniziale, quindi da come tutto è iniziato. Sono sempre stato un appassionato appunto di libri, di scrittura in genere, e nel video precedente a questo spiegavo come mi piacesse scrivere temi sin dall'alimentari, per cui pensavo di essere un genio della letteratura, poiché bastava appunto avere un'idea originale ed essere il più bravo della classe nello scrivere i temi per far di me uno scrittore. Questa passione dello scrivere l'ho abbandonata subito dopo uscito dalle scuole, non ci ho mai più pensato, e mi sono buttato nel teatro, quindi ho fatto teatro per tantissimi anni, e quindi la scrittura aveva proprio un ruolo a parte, l'unica cosa che perseguivo era quella di leggere libri, di leggere narrativa in genere. A un certo punto ho avuto un incidente, un incidente con la moto, di cui parlo nel primo video appunto in cui aprì il mio canale, e questo incidente ha dato una vera e propria svolta alla mia vita, una svolta positiva, nel senso che da quel giorno ho cominciato a farmi duemila, tremila domande, cosa che in realtà già facevo prima, nel senso che le classiche domande, le classiche domande sull'esistenza, perché siamo su questo pianeta, il senso della vita, e tutte queste belle cose. e piano piano mi sono avvicinato a quello che era, diciamo, una branca più spirituale della vita, quindi mi sono avvicinato alle religioni orientali, alle filosofie orientali, più che alle religioni orientali, e quindi a tutta quella visione per cui, diciamo, esiste la legge di attrazione, tutte queste belle cosine che, diciamo, hanno una loro valenza a livello psicologico, quindi ti catturano, ti prendono veramente, e quindi ti fanno credere delle cose che ovviamente risultano poi non sbagliate, perché in realtà appunto quello che a me piacerebbe fare proprio su questo canale è proprio quello, riuscire ad unire i puntini tra quello che sembrerebbe pseudoscienza, chiamiamola pseudoscienza, o comunque più che altro quello che viene vista come una sorta di fuffa, unirla invece ai pensieri scientifici, ok? Quindi appunto, se parliamo per esempio della legge di attrazione, e la legge di attrazione dice, non so se avete mai letto uno di questi libri, la legge di attrazione, ce ne stanno vari, c'è la legge di attrazione, The Secret, insomma tutti libri che, bene o male, parlano della stessa cosa, cioè che esiste una sorta di energia, di energia che permea l'intero universo, e se uno è in grado appunto di concentrarsi su questa energia, basterebbe chiedere ciò che si vuole per ottenerlo, ok? Ecco, questo tipo di pensiero all'inizio mi ha mi ha calamitato, mi ha preso totalmente, infatti non passava un giorno in cui io non sperimentavo tutte queste cose che effettivamente c'erano scritte sul libro, su questi libri, e che molte volte accadevano, accadevano, a me sono accadute molte, molte cose sembrerebbero particolari, strane, come il pensare ad oggetti e trovarseli davanti dopo qualche minuto, ora, dopo averli pensati, cosa che mai sarebbe successa se non l'avessi pensati. Quindi diciamo, avevo imboccato una sorta di via per cui questa sorta di potere, di pensiero era reale. Quindi ho cominciato a leggere libri spirituali, mi sono avvicinato alla filosofia indiana, ho cominciato a leggere la Bhagavad Gita, Gita Gita, non so mai come si dice, e quindi mi sono dedicato per un periodo alla, diciamo, all'apprendere tutte queste cose che io mai, mai, non avevo mai conosciuto. Provengo io da una dottrina, diciamo, cristiana, ho fatto il chirichetto al Papa, sono cresciuto in oratorio, quindi questo tipo di visione che c'era, che poi ho scoperto dopo, era assolutamente lontano anni luce da quello che avevo già assorbito prima. e quindi questa cosa mi ha attratto in una maniera assurda. Poi a un certo punto, però, anche in questo, anche in quel momento, quando ho sentito, ho sentito che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa che comunque stonava, cioè il fatto che comunque tutti questi discorsi viravano sempre sul, sull'amore, sul, sul fatto che devi amare sempre te stesso, devi essere te stesso, devi, cioè, diciamo che questi discorsi viravano molto sull'autostima, sì, però, soprattutto, su questo sempre lato di essere buoni, di essere sempre e soprattutto buoni, quindi, perdonare, porgere l'altra guancia, tutte cose giuste, esatte, ovviamente, ma questo, a lungo andare, ti può trasformare diciamo in una sorta di martire, martire barra persona vuota, persona vuota, cioè tu praticamente non reagisci più alla vita, non fai altro che prendere botte e quindi resistere, stringere i denti e non reagire mai, non fare mai un passo perché appunto devi perdonare, devi amare, devi, quindi, diciamo che questi tipi di pensieri che sono molto in realtà ispiranti, poi a un certo punto vanno anche contestualizzati e presi con le pinze, perché altrimenti ci si trasforma veramente in un martire appunto e soprattutto non bisogna mai una cosa che ho imparato una cosa che ho imparato e sto imparando tuttora è di non aderire mai veramente a un pensiero o meglio secondo me il segreto della crescita personale perché poi di questo si tratta è quello di prendere da ogni parte un qualcosa che poi ti fa diventare ovviamente una persona migliore ti dovrebbe far diventare una persona migliore ovviamente e quindi ecco non aderire mai ai pensieri su cui ci si affaccia o meglio all'inizio si immergersi completamente in quei pensieri immergersi completamente quindi credendo a quelle cose a cui ti stai rivolgendo per poi a un certo punto fare un passo indietro e vederlo con un occhio critico infatti una cosa che ho imparato tramite queste discipline tramite la meditazione che non è nient'altro che il cercare di essere testimoni della propria esistenza cioè l'osservazione dei tuoi comportamenti delle tue emozioni di quello che fai durante il giorno di quello che fai durante tutta la settimana nell'arco di un mese nell'arco di un anno osservarti completamente e non farti prendere dai sensi di colpa appunto dal sentirti sbagliato dall'evitare di fare certi comportamenti perché altrimenti saresti visto come una persona sbagliata quindi la meditazione se posso dire che mi ha insegnato qualcosa è stato proprio questo osservare dall'esterno gli altri sì quindi i comportamenti tutto quello che ti ruota intorno ma soprattutto osservare se stessi se stessi nell'atto di esistere che è una cosa molto difficile pure da spiegare però quando quando comunque uno appunto sente sente delle emozioni sente che c'è una spinta dentro scusate un altro esercizio che sto cercando di fare in questo momento è quello di parlare a ruota libera senza cercare di interrompere i video perché un'altra cosa che mi piacerebbe fare è quello di padroneggiare la materia per cui voglio studiare e quindi cercare di non posso tergiversare posso anche fermarmi però sempre cercare di riprendere subito il discorso perché è un esercizio è un esercizio che sto cercando di fare quello di parlare parlare a voi che mi state guardando e quindi vi ringrazio di seguirmi nel cercare di argomentare il più possibile tutto ciò che mi piace che mi appassiona quindi diciamo che in questo percorso appunto spirituale a un certo punto mi sono bloccato o meglio mi sono distanziato distaccato distaccato non nel non credere o comunque non aderire a quei pensieri che avevo fatto miei ma in realtà inglobarli quindi rendermi renderli appunto miei per volgere lo sguardo da un'altra parte insieme al mio amico Gianmarco che saluto se mi sta guardando abbiamo fatto dei podcast e su uno di questi podcast parlavamo della famosissima eco chamber cioè nient'altro che in italiano la stanza dell'eco cioè tutti noi che stiamo sui social a proposito adesso dei social anche questo vi dirò non facciamo nient'altro che crearci una bolla dove noi siamo cioè noi crediamo di essere su appunto un social e riuscire a vedere tutto quello che accade intorno al mondo in realtà non facciamo nient'altro che chiuderci in una bolla tutto ciò che vediamo tutto ciò che l'algoritmo ci presenta non è nient'altro che quello su cui noi crediamo e crediamo sia giusto infatti la miglior cosa per veramente che poi nemmeno è così però per cercare di capire se veramente stai in un echo chamber se vedi qualche persona che sui tuoi social dice qualcosa di diverso da ciò che pensi allora forse forse significa che allora hai una pluralità di pensieri intorno a te quindi gruppi che invece inneggiano cose che tu non inneggeresti mai lasciando il fatto che io ho abbandonato tutti i social l'ho abbandonati l'ho levato tutte le applicazioni sul mio telefono ho levato facebook ho levato instagram forse instagram ce l'ho solo perché metto semmai appunto l'avviso che magari ho messo un nuovo articolo un nuovo video una cosa del genere però ho levato tutti i soprattutto facebook 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 è la morte secondo me la morte proprio del cerebrale perché il cervello non fa nient'altro che andarlo a ricercare sempre comunque l'ho sperimentato su me stesso proprio perché all'inizio quando io levavo facebook io non sono un fruitore di facebook non mi è mai interessato avere facebook per il profilo personale per chissà che cosa l'ho sempre utilizzato come strumento per ecco buttare sopra le mie passioni le mie cose l'ho scoperto su di me che non sono appunto un tipo attaccato che ho semplicemente disinstallato disinstallato l'applicazione e io andavo a prendere il telefono senza motivazione per cercare di pigiare il tasto anche se non mi interessava quindi quando ho capito questa cosa l'ho proprio depennato levato eliminato l'ho levato perché era tossico era diventato tossico non riuscivo più a a perseguire i miei obiettivi che erano appunto obiettivi reali che volevo seguire ma non riuscivo perché ecco qui dove sta il cambio di mentalità perché non riuscivo perché avevo abituato il mio cervello a determinati stimoli a determinate cose e quello non faceva nient'altro che andarli a riproporre quindi dove sta l'inghippo dove sta il segreto per cambiare mentalità è praticamente farsi il lavaggio del cervello farsi il lavaggio del cervello come dice il il duca che il duca è è la seconda parte dopo il percorso spirituale la seconda persona che ho incontrato che diciamo ha dato un'altra svolta a queste visioni che avevo lavarsi il cervello significa semplicemente riprogrammare il cervello riprogrammare il cervello con gli stimoli che a te servono servono per quell'obiettivo che ti sei prefissato ovviamente fino a che tu non hai presente l'obiettivo non non puoi farlo rimani in quel limbo in quel limbo che ti ti fa credere di fare le cose ma in realtà non le fai procrastini la procrastinazione è un'altra cosa che ho scoperto che ovviamente ho scoperto la parola la procrastinazione ma che appunto è evidente a tutti noi quando tu hai una voglia di fare qualcosa in realtà dici vabbè me la faccio il giorno dopo vabbè me la faccio tra un'ora vabbè me la faccio domani vabbè me la faccio di qua faccio di là non la fai mai non parti mai perché perché è proprio perché è proprio una cosa psicologica la resistenza che si oppone a qualsiasi cosa che tu voglia fare quindi esiste esiste proprio questa cosa e finalmente sono riuscito a combattere questa cosa a combatterla con la voglia e con la ripetizione di determinati stimoli che mi hanno portato a fare quello che mi piace fare quindi scrivere scrivere sto scrivendo un romanzo in realtà ne ho scritti due il primo che avevo già scritto a un certo punto l'ho dovuto abbandonare perché ho capito che ero troppo attaccato a quella storia ero troppo attaccato a tutti i personaggi ero troppo attaccato proveniva da almeno cinque anni di stesura una stesura di cinque anni perché non avevo il metodo per scrivere non avevo il metodo di studio non avevo il metodo per capire dove stavo sbagliando e quindi è stato un susseguirsi sempre di rattoppi fino a che era diventato un mostro un mostro nero tipo Venom di Spider-Man che non voleva non voleva finire non voleva finire infatti è rimasto là invece da gennaio ho avuto l'idea di un nuovo romanzo da gennaio e da gennaio a febbraio un mese un mese ho finito la stesura la prima stesura ovviamente del mio romanzo quindi un romanzo con l'idea con tutto quanto l'arco del personaggio che parte dall'inizio alla fine sta là dopo un mese solo un mese contro cinque anni dell'altro romanzo quindi questo cambio di mentalità lo vedo è evidente c'è sono riuscito a cominciare a lavorare in un certo determinato modo e continuo continuo a migliorare nel senso che continuo a stimolare sempre di più ed avere sempre obiettivi maggiori ma bisogna sempre partire dalla base dai primi passi senza esagerare non bisogna mai vedere sempre subito l'obiettivo finale ma partire step by step per cambiare questa mentalità e perché è un lavoro qual è un lavoro cambiare mentalità e una cosa che mi ha aiutato tanto è stato studiare studiare quindi bagnarmi d'umiltà capire che non capivo niente che non ero niente che non ero nessuno cosa capita già tramite il percorso spirituale di non essere niente di non essere nessuno non c'è bisogno ovviamente di fare un percorso spirituale per capire che in fondo noi esseri umani siamo siamo niente appunto non c'è bisogno di quello i filosofi ne parlano da secoli però grazie a questo bagno d'umiltà che sono riuscito a mettermi a studiare cosa che io mai avrei pensato nella mia vita studiare studiare io che la scuola facevo i certificati falsi a scuola per dire vabbè tanto ormai bypassata mi dovessero denunciare insomma comunque studiare studiare quindi ho cominciato a studiare un corso di scrittura che già ho detto nel precedente video e tramite quello mi si è aperto un mondo un mondo sulla narrativa sulla narratologia in generale e quindi su quello che a me piace quindi la passione che ho la passione di scrivere di leggere di vedere i libri che poi sfocia anche nei film nei videogiochi in qualsiasi cosa però mi sono buttato ho studiato sto studiando ho una marea di libri da studiare da leggere e grazie a questo sto acquisendo nuove informazioni sto acquisendo nuove competenze sto acquisendo quella quella cosa che mi mancava quindi che acquisendo prima sicurezza sicurezza in me stesso guardandomi capendo dove stavo sbagliando in alcuni atteggiamenti che ovviamente ancora sbaglio ma che riesco ad osservare adesso quindi avendo acquisito questa sicurezza e mettendo insieme lo studio le due cose si fondono per formare quella crescita evolutiva a cui aspiriamo tutti a cui aspiriamo a cui aspira ogni essere umano senziente quindi la cosa che posso appunto consigliare è proprio questa cioè il fatto di essere umili umili nel capire che che non conosciamo nulla e che ogni cosa che succede come detto già in altri video sempre nel canale che erano più a livello spirituale appunto la colpa non è degli altri la colpa è nostra la colpa è nostra qualsiasi cosa succede nella vita è nostra noi non facciamo nient'altro che perpetrare continuamente problematiche che noi crediamo vengano dall'esterno ma vengono dall'interno se una cosa l'ho imparata leggendo tutti questi libri spirituali leggendo tutte queste cose è proprio questo tutto quello che permea l'essere umano non è nient'altro che una riflessione di quello che c'è dentro cioè quello che siamo noi la nostra percezione la percezione dei nostri stimoli dei nostri bias cognitivi di quello che crediamo sia giusto dell'errore che fa il cervello nel collegarsi quando per lui dà prescontato che sia così la realtà quando non è così la realtà quindi credere non credere ma osservare osservare l'esistenza e capire che ogni cosa che succede è colpa merito nostro ok? questa è la cosa principale che mi sento di avallare dopodiché appunto questo metodo questo metodo che nello studiare ovviamente c'è bisogno di metodo che viene insegnato cioè stanno un miliardo di metodi di apprendimento di studio di come cambiare mentalità libri su libri come svegliarsi la mattina presto come quello come quell'altro come su come giù ma parte tutto dalla forza di volontà dalla forza di volontà di dire io lo devo fare perché è quello che voglio fare attenzione non è che lo devi fare per qualcun altro lo stai facendo per te stesso io praticamente le prime volte mi svegliavo la mattina alle 5.30 di mattina per poter scrivere quell'oretta prima di andare al lavoro adesso ho preso l'abitudine di scrivere la sera alle 9 dopo cena mettiamo a letto i bimbi alle 9 mi metto di là e fino alle 11 un'ora un'ora e mezza due ore scrivo scrivo adesso probabilmente ricambierò orario ritornerò la mattina perché sento che la sera adesso è un po' più pesante la situazione quindi anche questa cosa è una cosa sempre evolutiva e quindi quindi c'è sempre la forza di volontà dietro tutto c'è sempre la forza di volontà per quanto mi riguarda poi la cosa è metodo metodo veramente cioè che cosa ho fatto se vedete qua eccolo qua mi sposto qua qui c'è una lavagnetta lavagnetta nera dove ho fatto disegnare da mia moglie pure il logo del mio blog dove adesso non c'è niente cancellato dove segnavo giorno per giorno quindi tutta la settimana lunedì martedì ma così giovedì domenica quindi non escludendo il sabato e la domenica con tutti gli obiettivi quindi la scrittura quante volte scrivevo quante volte facevo esercizi a corpo libero perché faccio esercizi a corpo libero quante volte yoga con sotto magari scritto quando avevo finito la prima stesura la seconda stesura quindi tutte cose che a me visivamente aiutano per poter perseguire quegli obiettivi perché mi sono accorto che per perseguire i miei obiettivi io devo averceli segnati e non diciamo così volanti o volatili dentro la testa ma bensì scritti scritti su carta sulla lavagnetta su dappertutto una cosa che adesso non c'entra niente però se vedete qua dietro non so come spostarmi perché sto ci sono praticamente quei due quei due riguadri questi qua eccolo uno di ritorno al futuro attenzione è uno con il logo del del mio blog che si illumina pure vabbè adesso non gli attacco niente che l'ha fatti un grandissimo amico mio grande amico Luca che poi vi lascio il link del suo del suo canale insomma di Instagram mi pare o Facebook tutti e due dove lui realizza questi pannelli un pannello in legno con davanti appunto le scritte che voi volete qualsiasi cosa e si illumina una cocia al telecomandino può cambiare colori o cose del genere un'altra cosa che ho fatto con le mie abitudini ho comprato questa sveglia questa sveglia qui questa sveglia qui praticamente che fa si accende cambia luce ma soprattutto una cosa molto figa è che praticamente tu vuoi mettere la sveglia simula il tramonto scusa l'alba simula l'alba quindi con un suono in questo caso c'era un suono di uccellini o comunque un suono di una cosa del genere quindi lui mezz'ora prima si accende la luce simula l'alba e tu ti svegli più tranquillo più sicuro invece della solita sveglia che spara a mille e ti uccide quindi diciamo tutta una serie di scusate l'interruzione i bambini va bene un'altra cosa che ho fatto ho comprato un'agenda dove segno praticamente tutte le cose belle carucce che piacciono a me cioè nel senso giorno per giorno tutto quello che faccio quello che non faccio con il dove sta il piano mensile quindi tutto il mese insomma ci sono i mesi segnati con tutti i mesi poi segnali insomma una marea di cose fichissime che a me piace tantissimo quindi crearmi un'agenda con tutte le cose con le note con tutti i libri che devo mettermi a leggere e un'altra cosa che appunto sto cercando di fare è di cercare di aumentare la frequenza di questi video quindi video su youtube per parlare appunto di determinati argomenti determinate cose quindi creare un dei video appunto dove parlo di narrativa e c'è bisogno di costanza tanta costanza tanta voglia e diciamo che per fare lo scrittore per fare lo scrittore oltre a aver scoperto che ovviamente non si campa di scrittura non si campa di scrittura cioè io scrivo un libro non campo di scrittura con nessuno scrittore campa a meno che ovviamente non ha scritto un best seller che è bene milioni 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 di copie un'altra cosa che ovviamente ho scoperto è che l'editoria oltre al fatto che ovviamente non legge più nessuno ma è è un mondo che non credevo assolutamente fosse così e quindi il fatto è che non è difficile pubblicare attenzione non è difficile pubblicare perché chi scrive libri in realtà non avendo fatto soprattutto qua in Italia corsi di scrittura perché per esempio in Inghilterra insegnano nelle università se non sbaglio narratologia e narrativa in genere qui in Italia niente nisba a meno che non c'è qualche santo appunto privato che si inventa qualche corso di scrittura in Italia non c'è modo di sapere minimamente nemmeno le basi di questo mestiere nemmeno le basi non so se all'università a livello giornalistico se uno vuole fare giornalista insegnano scrittura creativa in questo modo come lo sto studiando io perché devo ammettere che il corso del Duca è uno dei corsi secondo me migliori ma non perché lo sto facendo io veramente non per pubblicizzarlo a parte parlano per lui tutti gli autori che sono pubblicati ma è proprio perché spiega a fondo le basi che poi ti ritrovi veramente in libri che provengono da altre parti quindi da dall'America dall'Inghilterra quello che è quindi fino arrivando a Aristotele quindi devo dire che questo percorso mi ha aperto veramente un mondo mi ha aperto veramente un mondo diciamo lo ringrazio perché ovviamente semmai riuscirò a pubblicare qualcosa decentemente scritto decentemente perché soprattutto anche soprattutto per lui un'altra cosa che mi ha aiutato tanto è per esempio il corso di Livio Gambarini che è sempre uno scrittore che proviene da è stato diciamo uno studente di Marco Carrara del Duca che ha realizzato un mini corso sulla resistenza di cui parlavo prima e le stesure quindi come affrontare ovviamente la resistenza ma anche e soprattutto come affrontare le stesure del libro e come immettere quando tu hai scritto i beta lettori i famosi beta lettori un'altra cosa bellissima stupenda che sto facendo è scrivere questo romanzo e coinvolgere una serie di gente che alcuni non conosco alcuni sono amici alcuni non conosco che sono i miei beta lettori se guardate questo video vi ringrazio vi amo vi voglio bene perché veramente si crea una connessione bellissima con quello che tu stai facendo quindi una tua idea un un qualcosa di 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 strano deforme che ti esce dalla testa ti dai una forma su carta e la condividi con gente che nemmeno conosci e questi ti ridanno indietro un qualcosa un feedback che sia positivo o negativo non importa anzi se è negativo forse è migliore proprio perché ti aiutano ti aiutano per andare avanti in questo percorso per scrivere questo libro e devo dire che questa cosa a me piace veramente tanto piace 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 tanto perché non c'è cosa migliore per uno scrittore ovviamente far leggere quello che scrive e sentire che magari piace anche no ma che però c'è qualcuno che si sta dedicando alla lettura di quello che tu scrivi ed è per me un passo importante è un'altra cosa che ho imparato che umilmente ho imparato perché prima ero geloso ero geloso di quello che scrivevo nessuno lo doveva vedere dovevano vederlo solo finito solo perché era pronto il capolavoro scritto quindi nessuno lo doveva vedere perché perché quindi poi dopo solo dopo quando era stato pubblicato il racconto che cosa nel blog allora forse qualcuno lo poteva diciamo poteva darmi indietro un feedback invece quest'altra cosa che ho imparato è quello di condividere e non essere gelosi delle proprie idee delle proprie perché anzi i beta lettori sono una una manna dal cielo ti aiutano assolutamente a capire ciò che non va e ciò che va e tu ti muovi in questa via cercando di poi segnare una via dritta che porta alla meta e mi sta aiutando veramente tanto questa cosa veramente tanto mi infonde sicurezza la classica riprova sociale altra altra tematica che magari affronteremo in un altro video diciamo che sto studiando sotto tutti i punti di vista quindi a livello narratologico a livello psicologico neuroscienze che non so chi più ha più ne metta filosofia spiritualità un sacco di cose un sacco di cose che veramente vorrei poi un giorno riuscire a mettere in un bel contenitore e condividere con tutti voi e creare qualcosa che possa aiutare possa aiutare ecco la cosa che con cui sono sempre partito e con cui ho sempre vissuto ho sempre vissuto la compassione di la compassione verso gli altri e il cercare di aiutare gli altri questa è sempre stata in realtà la mia missione la mia missione sin dall'inizio come penso sia la missione un po' di tutti chi è che a un certo punto della propria vita rinsavisce e capisce chi è che cosa vuole penso che la sua uno dei suoi obiettivi è quello di aiutare gli altri perché è evidente che solo aiutando gli altri poi quando ci lamentiamo che il mondo è una merda che il mondo fa schifo e tutto l'unico modo per migliorare queste situazioni è migliorare se stessi e condividere se stessi con gli altri questo è un altro step importante che ho imparato condividere se stessi con gli altri e non avere paura di essere ciò che si è non avere paura di stare davanti a una telecamera davanti a un buco nero lì che ti guarda e capire che tu puoi dare una mano a qualcuno che in quel momento la vede nera la vede buia la vede in modo diverso ma magari tramite te riesci a trovare quello spunto un minimo spunto magari di tutto questo video che ho fatto di mezz'ora non so quanto sarà magari uno spunto un singolo spunto sarà servito a una persona per aprire la sua vista il suo terzo occhio e vedere in modo diverso la propria vita per migliorare per stare bene perché alla fine quello che perseguiamo tutti è stare bene stare bene essere felici essere contenti fare ciò che si ama e condividerlo condividerlo per aiutare per aiutare se stessi ma aiutare anche gli altri quindi niente andate sul blog dove ho inserito l'ultimo l'ultimo articolo dove parlo del libro dove ho detto sin dall'inizio di Richard Matteson La casa d'inferno un libro che a me è piaciuto l'ho letto due volte per poter fare l'ho letto un sacco di volte un anno fa più di un anno se sentite casino che là sempre i figli fanno casino l'ho letto tanti anni fa 3-4 anni fa forse poi l'ho riletto qualche mese fa per poter scrivere questo articolo diciamo il libro per gli amanti del genere horror così insomma psicologico spirituale secondo me è perfetto è un libro che si legge si legge bene si rispetta tantissimi libri che invece ti annoiano a me non mi ha annoiato ogni due volte che l'ho letto l'ho letto sempre con attenzione è ovvio che non è in base a quello che sto studiando non è propriamente diciamo tecnicamente non è eccelso tecnicamente non è eccelso però a me piace piace l'idea di fondo piace la tematica che affronta e leggere l'ho letto Grazie a tutti.